Allora Pancio, quando ti senti stressato devi fare questo esercizio, devi sollevare le gambe dietro, apri la bocca, così, ok adesso passiamo alla posizione del cobra, dai, ok? Giriamo il collo lentamente a sinistra, ora lentamente a destra, di nuovo a sinistra, di nuovo a destra, ok, adesso in alto, in basso, ok? Adesso di nuovo, su, apri la bocca, avanza con le zampe, così, stendi, apri la bocca e giù, bravo